Un grande amico e un prezioso collega, esempio di bontà e disponibilità. Così è scritto sulla taga scoperta alla biblioteca Veghi in memoria di Franco Figoli, già dipendente dell'ufficio e relazioni con il pubblico del comune della Spezia scomparso recentemente. La firma incalce gli amici e i colleghi che non lo hanno mai dimenticato. Con le offerte raccolte è stato possibile acquistare un defibrillatore e intitolare un mezzo della protezione civile proprio alla memoria di Franco Figoli. A togliere la bandiera tricolore è toccato alla vedova di Figoli e al sindaco della Spezia Ferracchini. Franco era un amico, ha detto il sindaco, una persona sempre positiva che dedicava la sua vita al prossimo. Il modo migliore per continuare in questo percorso che lui comunque ci vede vicino a noi è quello proprio di fare quello in cui lui credeva e essere d'esempio verso gli altri per capire il vero significato della vita che non è solo quello di possedere ma è quello di essere, di essere un uomo di spessore, di essere un uomo che aiuta al prossimo senza alcuni interessi. Il modo migliore per ricordarlo, a concluso, è fare quello in cui lui credeva, aiutare gli altri.